. Uomini e donne, Sonia e Emanuele si sono lasciati? Lo sfogo preoccupa. Uomini e donne, Sonia Lorenzini condivide uno sfogo, la storia con Emanuele Mauti in crisi. . Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti di Uomini e donne forse si sono lasciati. E questa la notizia che sta sconvolgendo i telespettatori. Da ormai molto tempo, i due ex protagonisti del trono classico non si mostrano insieme. . Sappiamo bene che, dopo la scelta, avevano scelto di andare a convivere, prendendo una casa tutta loro. Ma qualcosa sembrerebbe essere andato storto. . Cosa è successo tra Sonia ed Emanuele ancora non è noto. . La Lorenzini, però, ha condiviso su Instagram un lungo sfogo, dove è possibile percepire che la relazione con il Mauti non prosegue a gonfie due. . L'ex tronista chiede ai fan di non fare più domande e, soprattutto, di non insistere di fronte al loro silenzio. . Quando avranno voglia di parlarne pubblicamente, saranno proprio loro a farlo. . Per ora, però, Sonia non intende rivelare cosa sta accadendo tra lei ed Emanuele. . Il suo lungo sfogo fa pensare che la loro relazione sia finita, anche se potrebbe trattarsi una crisi passeggera. . . La vita di ognuno è fatta di periodi. Essere personaggi più o meno conosciuti non significa dover rendere partecipi le persone di ogni avvenimento. . . In questo modo Sonia inizia il suo sfogo condiviso sui social. . . . . Lorenzini poi continua, rivelando di non essere più disposta ad accettare il comportamento insistente dei fan. . 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 Continuare in modo assillante in questa direzione Quando sarà il momento e solo nel caso in cui avremo voglia, risponderemo Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti preoccupano i fan, il lungo sfogo conferma la rottura Sonia ed Emanuele da molto tempo, ormai, non si mostrano più insieme sui social La coppia era abituata a condividere i suoi momenti di quotidianità con i fan Ora da tanti giorni, i telespettatori si sono resi conto che Sonia ed Emanuele potrebbero non stare più insieme Qualche tempo fa, la Lorenzini e il Mauti avevano scelto di smentire queste notizie Ma ora lo sfogo dell'extronista riapre i dubbi Ma non ci speriamo perché se ne faccia più sicure Ma non ci speriamo l'inizio Ma non ci speriamo ancora Ma non ci speriamo